Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Agrisapori. Iniziamo oggi il nostro appuntamento dalla città di Cuneo dove Andrea ci sta aspettando per raccontarci la sua nuova esperienza lavorativa aperta al sociale. Con 15 anni di esperienza nel settore della ristorazione e nella produzione di birre artigianali Andrea descrivici il tuo locale e dove si trova. Allora sì ci troviamo a Cuneo al Birtola un locale che è stato recuperato da una ex cappella sconsacrata una decina di anni fa. L'intento è stato quello di donare a questo spazio urbano che rende esuso una nuova vita con un progetto di innovazione sociale. Andrea tu non sei nuovo a queste iniziative aperte a situazioni di disagio. In passato hai realizzato anche un birrificio all'interno di un carcere e ora un locale realizzato appunto in una cappella sconsacrata sempre con l'attenzione ai meno fortunati. Quante persone lavorano oggi con te? Lavoriamo attualmente in dieci persone, metà sono situazioni di svantaggio, di difficoltà. Mi scegliamo competenze di eccellenza, persone che necessitano invece di apprendere competenze e creare una mansione per il futuro. Lo facciamo in realtà non nei canoni di una cooperativa, una società normalissima che però non punta esclusivamente al profitto ma in realtà proprio a un'inclusione sociale innovativa. Tu e i tuoi collaboratori avete un'attenzione volta anche all'utilizzo dei prodotti di alta qualità e soprattutto a chilometri zero. Sì, noi abbiamo come focus quello che a partire dalla birra che produciamo noi e che somministriamo in questo posto è la cucina molto semplice, un po' la cucina della nonna, la cucina di territorio, sovente prodotti da cooperative sociali che rivalutano e riqualificano il territorio in termini di agricoltura e di allevamento. La scelta non è solo dettata da un'esigenza di poter comunicare questa cosa oggi sembra che va un po' di moda al chilometro zero ma è proprio un credo quello di valorizzare il lavoro con strutture vicino a noi. Per quanto riguarda la birra siamo produttori nel senso che il mio mestiere, io sono un mastro birraio, produciamo birre artigianali che si rifanno alla tradizione del Belgio, solo e principalmente, tutte materie prime di buona qualità, dove possibile organiche, facciamo una birra chiara che è senza glutine quindi abbiamo deciso anche di dedicare un po' a questo aspetto di attenzione alle persone che hanno il problema della celiachia e anche la birra è un discorso di cultura, siamo molto propensi a proporre anche ai tre giovani un bere consapevole, quindi poco ma di grande qualità. Cultura della birra, del bere consapevole ma anche cultura musicale e che cos'altro? Lo spazio è dedicato alla cultura, all'accoglienza, facciamo concerti di musica dal vivo tutti i martedì, mostre d'arto di fotografia, occasioni come questa della Perinciso che sono un modo di rendere fruibile questo spazio e di portare cultura e qualità. Eh sì, l'aperitivo si trasforma, avete mai visto un laboratorio artistico accompagnato da uno spritz o da un'ottima birra? L'associazione Nerofumo stampa d'arte ha pensato di farlo. Cos'è un aperinciso? L'unione dell'aperitivo con un laboratorio di stampa per principianti e non. Allora oggi abbiamo organizzato l'aperinciso che è un aperitivo, quindi si mangia e si beve ma si incide e si lavora con la stampa d'arte. Stasera chi ha voluto partecipare al laboratorio aperinciso organizzato dall'associazione Nerofumo alla possibilità di fare appunto un aperitivo come si fa tutte le sere tranquillamente e di approcciarsi alle tecniche base della stampa d'arte come la linoleografia e la punta secca su Plexilas in questo caso. Chissà se i nostri telespettatori conoscono già la stampa d'arte questo affascinante mondo oppure non hanno mai sentito parlare. Michele nel caso in cui il nostro pubblico non conoscesse questo mondo vuoi raccontarcelo tu? Vuoi raccontarci questa forma d'arte? L'incisione è un campo molto ampio e anche molto antico e artisti anche dell'ottocento utilizzavano questa tecnica per riprodurre per stampare in serie delle opere d'arte. Quindi nasce l'incisione e nascono tantissime tecniche diverse di incisione a partire dalla punta secca, l'acqua forte, l'acqua tinta e via dicendo. In questo caso il partecipante al laboratorio hanno la possibilità cioè prendono decidono tra queste due tecniche che ho citato prima quindi punta secca su Plexiglas e linoleografia decisa la tecnica a seconda della tecnica possono riprodurre un disegno che hanno preparato oppure possono preparare qua un disegno un elaborato e lo trasferiscono sulla matrice. Nel caso della punta secca la trasferiscono su una matrice di Plexiglas e con una punta di metallo vado ad incidere il disegno che hanno preparato e che poi andrà stampato. La lastra dopo che è stata incisa con il nostro aiuto viene inchiostrata pulita con una tarlatana o con dei fogli di giornale o col palmo di mano e poi stampata con il torchio che abbiamo a disposizione del museo della stampa di Mondovì. Nel caso della linoleografia invece è una matrice di linoleum che viene incisa con delle sgorbie degli strumenti apposta per fare xilografia o linoleografia e viene inchiostrata con un rullo. La differenza dall'altra tecnica è che questa tecnica la linoleografia utilizza una stampa a rilievo nel senso che la parte in rilievo che non viene quindi incisa dalle sgorbie è la stampa effettiva che viene fatta invece nella punta secca la punta cioè quello che viene inciso è quello che viene effettivamente stampato. Voi siete dei giovani che amate la stampa antica che vi siete uniti in questa associazione. Volete raccontarci che cos'è la vostra associazione Nerofumo? Nerofumo è un'associazione di stampa d'arte che nasce circa un anno fa poco più con l'obiettivo di portare in giro la tecnica le tecniche della stampa d'arte antiche e moderne quindi cercare di coinvolgere il possibile il pubblico più vicino all'arte o meno a conoscenza delle tecniche e a provare anche organizzando laboratori come questo caso come altri in manifestazioni fiere e anche l'obiettivo di divulgare appunto queste tecniche e di riprendere un po' questi valori della stampa d'arte diciamo. Siamo 11 associati al momento, ognuno di noi ha un percorso artistico diverso, arriviamo da accademi o no ma ci teniamo comunque tutti a riprendere queste tecniche, a farle nostre anche con nostri elaborati artistici per poi anche produzioni collettive o singolari a nome Nerofumo. Abbiamo Facebook, abbiamo Instagram, ci potete trovare su questi canali e più avanti sicuramente siccome è solo un anno che siamo attivi spero avremo un sito, avremo anche piattaforme ancora più professionali, stiamo in corso d'opera. E noi vi facciamo i nostri migliori auguri affinché possiate crescere e continuare a far rivivere questa forma di arte e di artigianato. Proseguiamo però nella tradizione e nella storia andando a visitare un importante museo. Siamo a Doleggio, comune italiano in provincia di Novara, perché qui risiede un'importante tappa culturale, il Museo Civico Ennografico Fanchini. Museo che mette in mostra una sezione ennografica in cui si può ammirare una vasta collezione che attraverso la rassegna dei mestieri, l'angolo dei giochi e altre sale espositive ripercorre gli aspetti salienti della vita di fine XIX secolo inizio XX. Un museo da visitare ma anche da vivere in quanto qui si organizzano molteplici attività didattiche. Ci colleghiamo dunque con Andrea Baldassini, vice sindaco di Oleggio nonché assessore alla cultura. Andrea ci può presentare la sala del museo in cui si trova in questo momento? Sì, questa è una delle parti recentemente allestite, infatti l'abbiamo inaugurata nel settembre dell'anno scorso e rappresenta quello che è il patrimonio tessile del nostro museo. Questa è una zona, la zona loleggese ma in realtà il medio novarese che ha avuto in passato una forte influenza tessile con tantissime manifatture. Noi qui riportiamo al piano inferiore il bacco da seta con tanto di coltivazione che era molto diffusa tra i nostri agricoltori e ha prodotto poi degli stabilimenti serici importanti fine Settecento, primi dell'Ottocento. Con la fine dell'Ottocento la seta è stata sostituita dal cotone di importazione e si sono sviluppati molti laboratori tessili e di fianco delle sartorie importanti per il nostro territorio e questo è un po' un tributo a queste sartorie che erano presenti a Doleggio e hanno confezionato abiti anche molto belli che sono andati anche a sfilare a Milano. Oltre agli abiti abbiamo deciso di allestire anche una serie di oggetti che erano propri della moda e in qualche modo anche del viaggio perché per noi la moda era rappresentata da Milano e il viaggio per andare a Milano era importante e quindi abbiamo delle valigie, abbiamo degli ombrellini, abbiamo tantissimi accessori collegati agli abiti. Soprattutto in questa abbiamo degli abiti che cambiamo in maniera continuativa proprio per esporre l'intero patrimonio del nostro museo. In particolar modo adesso abbiamo un vestito rosa di fine Ottocento che è di pregevole fattura ed è appartenuto a una nobildonna oleggese. Abbiamo una ricostruzione di una modisteria. La modisteria è un nome storico, mettiamola in questi termini, che riguarda quelle sartorie che non solo facevano sartoria nel senso stretto del termine, ma si dedicavano anche a disegnare abiti che poi confezionavano. Si chiamavano modisteria, oleggione avevamo diverse. La più importante è la modisteria bournée e ne abbiamo una ricostruzione fedele e dal tavolo nel quale si effettuava il taglio, le macchine da cucire e i modelli sui quali si potevano provare gli abiti. È presente anche una ricostruzione di un particolare ambiente appartenente alla tradizione. Di che cosa si tratta? Assolutamente. Noi abbiamo moltissimi locali ricostruiti fedelmente e qui mi intendo sia l'arredo sia tutta l'accessoristica che era presente nelle abitazioni dalla fine dell'Ottocento ai primi del Novecento. Questo è il periodo generale delle ricostruzioni ambientali qui in museo. Partiamo dalla vita domestica. La vita domestica abbiamo alcuni ambienti, sono due cucine innanzitutto. Una cucina contadina e una cucina di città che riflettono la differenza della vita che si svolgeva in campagna e la vita che si svolgeva in città, anche pur essendo un piccolo centroleggio, aveva già la corrente elettrica, aveva già il gas che arrivava nelle case e quindi in qualche modo è una cucina diversa. È una cucina dove c'è il gas per i fornelli, dove c'è già un frigorifero che funziona con il ghiaccio, mentre al contrario quella contadina non ha niente di tutto questo. Ha un enorme camino, la fonte di calore sia per riscaldarsi sia per la cucina derivava dal fuoco diretto del camino. Non ha l'acqua corrente, quella di contadina, infatti vediamo un catino che serve a portare l'acqua attinta dal pozzo per utilizzarla sia per cucinare sia per lavare le stoviglie, lavare i panni eccetera. E sono diversi anche i metodi di conservazione del cibo. In campagna abbiamo la muscarola che non è altro che una rete chiusa nella quale si potevano mettere i cibi per evitare che le mosche andassero addosso al cibo, perché chi abitava in campagna aveva di solito di fianco la stalla, anzi c'era sempre una porta tra la stalla e la cucina, perché la stalla era un ambiente molto caldo e si usava il calore della stalla. Insieme a questo però arrivavano anche dei parassiti come mosche eccetera e quindi bisognava proteggersi, soprattutto proteggere il cibo da questi parassiti. Abbiamo anche la camera da letto e il salotto, è interessante la camera da letto e per le dimensioni del letto molto più piccole di quelli attuali per mantenere il calore e l'altezza del letto, si usava un letto particolarmente alto proprio per evitare i parassiti e per stare lontani dal pavimento che di solito era la parte più fredda del locale e poi non essendoci l'acqua corrente abbiamo il catino per lavarsi la mattina che era indispensabile per una vita dura quale doveva essere quella di fine ottocento, prima del novecento. Sartorie e abitazioni, ma non solo, continuiamo dunque il nostro viaggio nel museo, incontriamo Jacopo, guida di questo affascinante luogo. In quale sala ti trovi in questo momento Jacopo? In questo momento ci troviamo all'interno di una ricostruzione di un'aula scolastica, la datazione potrebbe essere inquadrabile alla fine del XIX, all'inizio del XX secolo. Come molti altri degli ambienti del museo civico, l'aula scolastica è stata ricostruita e allestita all'interno di quello che un tempo erano le celle dei frati che venivano ospitati all'interno di questa grande struttura. L'aula scolastica è stata tra le prime ricostruzioni che il fondatore del museo civico, Carlo Giacomo Fanchini, ha deciso di riallestire. L'aula è molto ricca di donazioni come tutto il resto del museo e all'interno dell'aula scolastica sono presenti numerose fotografie, cimeli scolastici, oggetti utilizzati dai bambini, appunto come dicevamo prima tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Perché il Cavalier Fanchini aveva deciso di allestire l'aula scolastica? Perché l'istruzione scolastica dopo l'unità d'Italia aveva portato a un grande sviluppo sociale, culturale ed economico al nuovo nascente Stato italiano e quindi l'istruzione è stato uno dei nuovi motori che ha permesso alle generazioni di creare una nuova economia a livello italiano. Molti sono gli oggetti che non sono più presenti nelle aule scolastiche odierne come l'asta che serviva per misurare l'altezza dei bambini oppure gli stessi banchi di legno che erano muniti di calamaio. Siccome tutto il museo è stato ricostruito con minuziosità dal fondatore del museo e dai volontari, anche tutti gli oggetti sono stati ricercati nei minimi dettagli. Possiamo ad esempio osservare anche la bacchetta che un tempo veniva utilizzata per le punizioni corporali, ecco un metodo didattico che al giorno d'oggi sicuramente non è più contemplato e sono presenti diversi banchi di altezza differente perché prima delle varie riforme scolastiche che ha portato l'obbligo degli studenti alla quinta elementare, nei primi tempi dopo la legge Coppino, nella seconda metà dell'Ottocento i bambini erano portati a frequentare solo fino alla terza classe elementare. Ecco che qui infatti sono presenti i banchi della prima, della seconda e della terza elementare. Solamente con l'avvento dell'inizio del Novecento cambieranno anche i metodi didattici e quindi verrà aggiunta anche la quarta, la quinta elementare e la sesta elementare e quindi un unico banco per unire le due classi discolari. L'obbligo scolastico portò quindi molti studenti a sviluppare numerose attività artigiane come quello che troveremo esposte nelle prossime sale espositive. Questa ricostruzione fu una delle prime realizzate dal fondatore del museo Giacomo Fanchini proprio perché riteneva che l'istruzione fosse alla base per qualsiasi attività futura. E le attività artigiane che sono rappresentate in quelle che furono le celle dei frati andiamo ora a vederle proprio con Jacopo. Jacopo vuoi illustrarci qualcuna di queste attività di un tempo? Le attività artigianali che sono qui illustrate presso il museo civico sono state ricostruite per identificare che il museo civico di Oleggio non fosse solo un museo dedicato all'agricoltura ma anche a tutte le attività collaterali che svolgevano le persone di un tempo. Un esempio in questa sala è presente l'aula del sarto e del barbiere due lavori che un tempo erano uniti perché nei piccoli paesi spesso chi svolgeva un'attività per arrotondare il salario svolgeva un'ulteriore attività secondaria. Questo è proprio il caso del sarto perché per secondo la mentalità del passato spesso solo gli uomini si facevano confezionare i vestiti mentre le donne il vestito spesso era un risultato più casalingo e gli uomini erano le uniche persone che tagliavano i capelli perché invece la moda del tempo prevedeva che le donne si acconcessero i capelli con i famosi spilloni alla Lucia Mondella e li raccogliessero dietro la testa. Oltre a questa attività sono presenti presso il Museo Civico ulteriori attività artigianali come quello del ciabattino o quello del carradore o i lavori del fotografo, molte attività che alcune sono perseguite nel tempo, invece altre sono terminate a causa della nuova moda e dei nuovi centri commerciali che hanno un po' decretato la fine di certe attività artigianali. Secondo l'uso del tempo era previsto che spesso molte delle attività utilizzassero anche delle strumentazioni che permettevano di trasformare gli oggetti e quindi riutilizzarli nel tempo. Nel caso ad esempio del sarto possiamo vedere che questa dima serviva per allargare i panciotti degli uomini perché secondo l'uso del non si butta via niente tutto ad essere recuperato il panciotto veniva modificata a seconda dell'età dell'uomo e a seconda della differenza della corporatura che nel tempo si poteva trasformare. Nella sala degli strumenti medici è presente effettivamente anche uno strumento che permetteva di far capire come anche nel passato pur essendo una vita molto più faticosa e quindi meno legata al benessere fisico come lo intendiamo noi al giorno d'oggi erano presenti però degli strumenti rudimentali che servivano per migliorare l'aspetto fisico delle persone. Qui il museo infatti è conservato un'antichissima sauna dell'inizio del novecento che funzionava proprio con lampadine a filamento di carbone. Le persone erano racchiuse materialmente all'interno di questa sauna con solo la testa sporgente, venivano chiuse completamente tutti gli sportelli e le lampadine trasmettevano il calore che veniva riflesso grazie a degli specchi che sono presenti all'interno della stessa struttura. Quindi sicuramente oggetto di vanto per il museo civico di Oleggio possedere un oggetto di questo tipo. Un altro mestiere affermato nel tempo che è in mostra proprio nel museo civico è quello del musicista. Quali strumenti avete conservato in quest'angolo di museo? All'interno della sala degli strumenti musicali è conservata anche l'attività che era legato al sollazzo delle persone. Sono presenti numerosi strumenti utilizzati nel passato e in particolar modo possiamo dire che a Oleggio era stata istituita all'inizio del 1800 il reale istituto balneosanitario Paganini. Così importante che il re Carlo Felice vi aggiunse il titolo di reale e Vincenzo Bellini nel 1831 presso proprio l'istituto Paganini scrisse la norma e la sua più celebre area casta diva. Grazie Jacopo per l'accurata spiegazione delle sale dedicate agli antichi mestieri ma noi ora ci dobbiamo spostare andremo nei semi interrati del museo perché proprio da qui sotto si possono ammirare le origini di questo antico edificio. Per saperne di più torniamo in compagnia del vice sindaco Andrea Baldassini. La parte più storica dell'edificio ed è quella nella quale ci troviamo risale al 1400 quando era presente qui un convento di frati riformati. È stato costruito proprio a cavallo delle mura oleggesi. L'edificio poi è stato successivamente nel 600 e nel 700 utilizzato sempre come convento. È stato poi acquistato dal vescovo Morozzo nell'800 che lo ha ristrutturato per farlo diventare una specie di centro estivo per i seminaristi novaresi. Scendendo da un sontuoso ingresso, un tempo agibile alle carrozze, ai cavalli, ci troviamo nelle cantine del palazzo. Oggi anch'esse adibite a museo. Esatto? Le cantine sono state recentemente ristrutturate. È un lavoro che ha portato via quasi 4 anni. Ospitano la sezione agricola del museo. È la più antica del nostro museo proprio perché Oleggio aveva una vocazione agricola importante e tutti gli oggetti che sono contenuti sono appartenuti e oleggesi che gli hanno donati al museo. Solo la sezione agricola ha 20 mila pezzi tra quelli che sono esposti e quelli che abbiamo a magazzino. Cosa abbiamo allestito? Sostanzialmente qui ci troviamo in una stalla dove trova posto il cavallo, dove trova posto le mucche e anche qui abbiamo una ricostruzione perfetta dal punto di vista degli oggetti presenti. Sempre nella stalla è presente anche una parte domestica. C'è la culla, c'è la zangola per fare il burro, c'è l'arcolaio per filare perché era un locale molto caldo e veniva utilizzato soprattutto in campagna e soprattutto d'inverno anche per vivere come locale accessorio della casa. Poi abbiamo la lavanderia e abbiamo ristrutturato quella che era la lavanderia del convento nella stessa posizione ed è particolarmente interessante il lavatoio che era fatto con l'acqua proveniente da una cisterna che fa parte del complesso. Una curiosità è che in questa lavanderia che era quella del convento troviamo il coperchio di un sarcofago romano ritrovato proprio qui sul territorio leggese. Dopodiché abbiamo tutti gli strumenti agricoli che vengono utilizzati e che sono stati utilizzati nella nostra campagna. Particolarmente pregiate è una macchina per seminare trainata da buoi, una pigiatrice idraulica su ruote ed è un pezzo molto molto interessante e una sgranatrice a vapore. Ultima sala in fondo è la sala dedicata al vino e alla vinificazione. Abbiamo dei tini, abbiamo un torchio per tipo e in legno e in metallo, quelli un po' più recenti e delle botti per contenere il vino. Ultima cosa sempre in quella sala è la parte dedicata alla macellazione del maiale che di solito avveniva proprio in cantina ed è per questo che l'abbiamo ristrutturato insieme. Continuiamo a ripercorrere questo viaggio attraverso gli antichi mestieri di un tempo, attraverso proprio le sale del museo etnografico Fanchini di Oleggio. Cambiamo dunque location, cambiamo sala e mestiere. Saliamo al pian terreno e andiamo a vedere che cosa troviamo. Ci troviamo nella zona dedicata all'allevamento del bacco da seta. Qui possiamo vedere come i nostri contadini allevavano il bacco da seta che serviva essenzialmente per produrre la seta, per filarla e poi venderla. Era un commercio molto fiorente qui a Doleggio per tutto l'Ottocento e era facilissimo trovare più o meno nelle case di tutti i contadini una rastrelliera come quella che abbiamo visto prima che conteneva dei rami che servivano proprio per quello, proprio per contenere i bacchi da seta. Ecco tra parentesi qui a Oleggio oggi del tutto scomparso è il gelso. Era un albero le cui foglie servivano proprio per alimentare il bacco da seta. Con il gelso e quindi con il bacco da seta poi i filati venivano portati di solito nel milanese per essere poi utilizzati per creare dei tessuti. Da questa parte invece troviamo quello che è la coltivazione agricola in generale nella vallata del Ticino, in particolar modo la vallata del Ticino è realizzata a gradoni e i gradoni più alti non erano alimentati, non erano irrigati. Sono stati irrigati grazie alla costruzione di questa centrale bronzini che ha permesso, sfruttando un salto di 8 metri dell'acqua presso la roggia molinara di Oleggio, di pompare l'acqua di irrigazione fino a quota 215 metri sul livello del Ticino e quindi di rendere fertile una fetta enorme del nostro territorio. E' per questo che abbiamo dedicato qui in museo una sala a questo inventore oleggese. Ringraziamo il Museo Civico Etnografico Fanchini per averci mostrato le meraviglie che contiene e per averci fatto assaporare una buona parte delle tradizioni e delle nostre radici. Noi ringraziamo e salutiamo anche tutti voi caro pubblico che ci seguite settimanalmente dandovi come sempre appuntamento alla prossima settimana sempre su questa emittente. Arrivederci!